su r101 non solo in radio sul web ma anche sul canale 167 della tv in questo momento in compagnia di un ospite che è ragazzi un raggio di sole accendete la tv perché al di là delle paillette proprio gli occhi che brillano da pazzi l'abbiamo conosciuta nel 2018 grazie ad amici di maria de filippi poi è arrivato il primo ep moments diverse collaborazioni certificate oro come sangria con astol come meglio di sera con astol e con alvaro de luna ladies and gentlemen emma muscat ciao a tutti che bella che sei lo so che te lo dicono tutti ma è proprio una roba come dire è sei talmente prorompente con la tua luce che è inevitabile come stai molto bene grazie ci dicevamo fuori onda sei partita dalla tua malta come si chiama proprio il paese insomma la zona dove vivi st julians valuta un po' in queste zone siamo sul mare comunque comunque quasi ovunque malta è sul mare essendo un'isola ovvio ovvio e si è arrivata per cominciare a raccontare di questa bella novità ovvero del nuovo singolo più di te raccontaci un po di più è uscito il 24 di novembre si più di te parla del ritrovamento del self confidence della fiducia in noi stessi per le persone che forse in passato hanno avuto un'esperienza dove si sentivano un po' bloccati o forse intrappolati e adesso con questa canzone spero che si possa aiutare le persone per trovare questa fiducia che questa forza di andare avanti e fare quella scelta quel passo che forse in passato non riuscivano a fare è stata una sorta di presa di consapevolezza anche da parte tua cioè c'è un aneddoto nella tua vita negli ultimi anni che poi ti ha fatto scattare la scrittura di questo testo sì diciamo che racconta un po' di esperienze mie da un rapporto con un ragazzo da la vita in generale che le persone mi dicevano che non poteva fare questo mestiere come lavoro principale questa cosa l'ho letta chi è che te lo diceva ovviamente senza fare nomi e cognomi ma per tante persone tante persone sì sì ogni volta che mi chiedevano tipo a scuola ma che vuoi fare da grande tutti dicono non lo so c'è lavori l'infermiera sì ok che ne so bravo grazie grazie io dicevo sempre voglio farla cantando la musicista artista insomma mi guardavano tipo come era pazza io dicevo è quello che voglio fare mi dicevano no ma questo è un passatempo tu devi fare un altro lavoro e mi faceva arrabbiare molto e con questa canzone voglio far vedere la mia forza che sono più forte di te e solutare come un pugile cioè nel senso che posso fare quello che voglio fare nella vita se eseguo il mio sogno e se sono determinata soprattutto con quegli occhioni che sono anche parte della copertina del singolo esatto la copertina ci sono i miei occhi con le lacrime però passate che adesso sono con i brillantini perché sono riafforzati diciamo sono cristalli come le faiette strabrillano senti tu hai detto volevo appunto fare volevo intraprendere questa strada sì ti è nato diciamo come dire sei stata la prima in famiglia o c'è qualcuno in famiglia dei tuoi che aveva o ha questa vena artistica e te l'ha trasmessa diciamo mia mamma suona il pianoforte da piccola pure mio nonno non lo so mio padre è abbastanza musicale però si sono cresciuta in casa con tanta musica ho iniziato da piccola da cinque anni quindi è proprio nelle mie vene io ho letto Emma di te che diciamo hai trovato come riferimenti musicali due nomi pazzeschi della musica Alicia Keys e Arita Franklin perché è facile intuirlo ma cosa ami di più dell'una e dell'altra e in che modo ti ispiri al loro essere sì diciamo io sono cresciuta con la musica pop soul e quindi questo mi ispira tanto da entrambe le artiste specialmente con Arita Franklin scusami ho seguito la sua storia crescendo e mi ha ispirato molto e la stimo tanto come donna e anche come artista per i messaggi importantissimi che ha lanciato che se vuoi sono anche quelli di Alicia Keys la rivendicazione dei diritti fondamentali è pazzesco facciamo invece al contrario tu fan di Arita Franklin e Alicia Keys i tuoi fan cosa ti scrivono cioè cosa intercetti in loro ti chiedono qualcosa in particolare ti ringraziano per qualche motivo cosa gli regali ogni volta ricevo messaggi diversi però sempre l'amore di ringraziamento per esserci per la mia musica per i messaggi che passo nelle mie canzoni a me piace essere molto vicino ai miei fan tipo sono amiche amici e tipo una famiglia siamo una grande famiglia e niente quando posso li aiuto li aiuto tramite la mia musica ma anche esserci proprio sui social li scrivo eccetera eccetera quindi sono molto importanti per me molto attiva so che gli rispondi direttamente ad alcuni di loro rispondi proprio ai messaggini e hai fatto loro un regalo adesso voglio capirla questa cosa il giorno del tuo compleanno che è stato il 27 il 27 quindi sì esatto sabato sabato tu hai fatto un regalo a loro perché è uscito il videoclip di più di te esatto e hai detto questa cosa che mi fa sorridere ma in realtà può appartenere a tanti che ti imbarazza ricevere regali sì è vero perché questa cosa? non lo so mi sento un po' imbarazzata non so mai che dire e preferisco dare cioè fare i regali insomma e quindi ogni anno mi piace provare almeno a dargli qualcosa e quest'anno siamo stati molto fortunati di ho avuto l'opportunità di regalare questo videoclip del giorno del mio compleanno allora ragazzi ufficialmente Emma Muscat non vuole regali a Natale non glieli fate perché guarda se li potete fare scherzo scherzo però sì no preferisco farli senti chiudiamo proprio con Natale anzi che progetti ha in generale adesso al di là ovviamente della promozione di questo nuovo lavoro c'è qualcosa che bolle in pentola? sì certo che non si può dire sono sempre in studio a scrivere ci sono tante belle cose in ballo tante sorprese forse anche collaborazioni internazionali e niente sono molto casata per il futuro e le state connessi assolutamente sì Natale a casa ovviamente a Malta Natale sì cerco di passarla a casa però sì poi si parte di nuovo c'è qualcosa di tipico che si mangia a Malta a Natale? ti viene in mente un piano? noi mangiamo il tacchino ah tipo gli United States nel periodo del ringraziamento esatto tipo Thanksgiving eh sì 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 evviva Emma è stato un onore grazie mille Emma Muscat su R101 oi